Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale Per chi è nuovo qui sul canale sappiate che io di solito non faccio questa tipologia di video Il mio canale tratta make up, challenge, assaggi di snack americani, snack asiatici e tante altre cose Ma questo è il primo video reaction che faccio su un video musicale Ho deciso di fare un video reaction appunto sulla nuova canzone di Fabio Rovazzi Non ci aspettavamo una seconda canzone di Fabio Rovazzi e invece è arrivata E il titolo è tutto molto interessante Io ho già ascoltato la canzone e in più ho visto l'intro, la parte iniziale del video Quindi ora andremo a vedere insieme il video e vediamo un po' che cosa ne penso Allora voi vedrete il video qui sotto accanto a me però un po' più veloce Perché non vorrei che YouTube mi blocca il video Quindi io ascolto normalmente e voi vedete È un po' più veloce Da notare che partecipa tutto il mondo ai video di Fabio Come si chiama? Fabio Deluigi Dietro le quinte c'è Simone Bella Da notare Enrico Papi con la tromba Però sai recitare? Sì Sai recitare Fabio? Eh Rovazzi Fabio no? Sì Greta Menchi Morta da L'altra ragazza l'ho vista in qualche video ma non so chi è Questa qui bionda Come l'ho fatta a fare questa cosa di Snapchat? Ehm Enrico Papi che censura il cazzo vota sempre con la tromba No ma aspetta è da notare la faccia di Enrico Papi quando dice è tutto molto indiferenza È tutto Così che si fa paura C'è tutta YouTube Italia un pratica Quella dei soliti idioti notare Ma dei cazzo Di cazzo Che me ne frega JX non lo so ma canta pure lui? No no Che cosa c'è a te che ha in canzone? JX e il Fedez se non sbaglio stanno insieme a Nella stessa casa di Skogat Nella stessa Genzi Yacht Esatto Greta Menchi Fedez E perché Greta Menchi? La quale è una cantante? Fabio Rovazzi nell'elicottolo aereo che cacchio è? Drogato Proprio quella ragazza che non mi ricordo come si chiama I bambini antichi Che andano a leccata Ma dove? Fanno impressione Leccata di mucca Lui l'ha già vista il video Anche le città forse è meglio di Rovazzi Bambini antichi di nuovo La ragazza Una dedica sulla luna Forse è importante Oh tanto questo Per live special Comunque Allora Che dire Mi piace di più rispetto all'altra canzone Sinceramente Mi piace di più Sicuramente Molti diranno No è una cagata È una cavola La canzone è una cagata È fatta apposta per far ridere infatti Perché Prende in giro appunto Chi è fissato con i social E tutto quanto Ma le persone Non capiscono E quindi stanno sempre a prendere in giro Ma secondo me sono anche invidiosi Perché Lui guadagna molto più di voi E quindi Blah 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 Ah io non so detto Non discrimina Non si sente che sono di Milano Chi me lo dici Che è? Io sono di Milano Quindi ragazzi e ragazze Spero che questa tipologia di video Vi sia piaciuta Se vi è piaciuta ovviamente Scrivetelo nei commenti Io ne farò tantissime altre Magari chiedetemi voi I video di action Su vari canzoni Non lo so E a 10.000 like Prossima 10.000 like Cioè nel senso che io devo contarli Sommandoli in ogni video Perché non ci arrivo Ma neanche sommandoli in ogni video Non ci arrivo Ci arrivo Un ringraziamento speciale Va all'iPhone 6 di Simone Che sta registrando tutto questo Quindi noi ci vediamo Al prossimo video Ciao